Terminali dei pullman senza panchine, pensiline, pendolari su tutte le furie ad Avellino, dal piazzale dello stadio a Via Colombo. I viaggiatori protestano per l'assenza delle infrastrutture nelle aree di snodo dei trasporti ad Avellino. Non c'è nessun servizio, non c'è un bagno, se piove uno dove va, fine del mondo questo, mai visto un paese così, mai. Io sono di Budapest, però qua fa schifo proprio. Mancano panchine, come il tettoio, perché quando piove si sta troppo all'aperto. Una persona che deve arrivare qua sopra per prendere un pullman che sta in città, per me è una persona anziana, è difficile. Ma i sindacati protestano e ricordano come la responsabilità di attrezzare l'aria sia tutta del comune. Il sindaco si incaricò, lui, dice io faccio mettere le pensiline, farò mettere le pensiline, farò mettere le panchine per i viaggiatori. Siamo ad oggi, siamo ad X. I problemi sul piazzale dello stadio sono anche altri. Gli stessi lavoratori e capi servizio sono su tutte le furie per il degrado e abbandono dell'area. L'area, secondo quanto spiegano, di notte diventa zona franca per giovani scalmanati che si ritrovano sullo spiazzale per divertirsi e farlo senza regole. Un po' sporca, di fronte al nostro paese noi siamo in oro. L'autista è il caprio espiratorio, è il primo che viene attaccato. Viene attaccato, i capolini, qua non sappiamo, alcune volte facciamo mettere le persone anziane dentro alla nostra capolini.